Buongiorno, Buongiorno, il mio nome è Giovanni Monia, sono il Presidente e il Presidente di Probiotical. Probiotical è una delle piccole compagnie del mondo che potrà produrre probiotiche seguendo il ciclo del cibo di manufattura. Il primo comincia dalla isolazione del strano bacterico e finisce con i prodotti finiti in farmacità. Siamo così concentrati sulla ricerca scientifica che mi piace chiamare Probiotical il centro di ricerca più avanzato nel mondo supportato dalla sua propria attività di manufattura. Buona salute a tutti!